La gentilezza oggigiorno è una rarità e quindi è rivoluzionaria perché fa parte dell'educazione, cioè si inizia già educando i bambini e la gentilezza è un'attitudine di vita e è un modo di concepire l'esistenza praticamente. Uno sguardo amico, un sorriso, una mano tesa, sono tanti i piccoli gesti con cui si può essere gentili nei confronti del prossimo. In occasione della giornata mondiale della gentilezza che si celebra il 13 novembre di ogni anno, abbiamo chiesto ai bellunesi cosa rappresenti per loro questa qualità importante e in che modo riescano ad esprimerla. Per me innanzitutto la gentilezza è accoglienza verso il prossimo, poi può essere declinata in vari modi e dipende un po' dalla personalità di ciascuno. La gentilezza è avere attenzione e principalmente attenzione verso l'altro, sì, questo è secondo me la gentilezza, oltre poi alle parole, ai gesti e tutto, ma quella è una conseguenza. Gentilezza, ma un sorriso, un incontro di un amico o un'amica che sia, un abbraccio, una stretta di mano. Diciamo che il mondo non porta a questo, vedo che anche, a parte quello che sentiamo nei giornali o sulla televisione stessa, non parlano mai di gentilezza, parlano sempre di robe brutte. In un mondo frenetico, in cui siamo sempre più concentrati su noi stessi e poco disposti a ritagliare del tempo per gli altri, la gentilezza allora diventa una chiave per ristabilire una connessione, anche nei piccoli gesti quotidiani. La gentilezza è per me uno dei valori più importanti che bisognerebbe trasmettere a noi giovani, perché secondo me si sta un pochino perdendo il senso di comunità, di conseguenza essere più gentili l'uno verso l'altro e rispettosi e disponibili potrebbe aiutare a creare un mondo più tranquillo e sereno. Per me la gentilezza è innanzitutto uno stato d'animo, è una predisposizione, è qualcosa che viene dal cuore, facendo un piccolo favore, regalando uno sguardo, una parola d'attenzione, qualcosa che di solito non faccio.